Mi hanno chiesto di spiegare cosa sono le app Wallet. Sono app che consentono di aggiungere le tue carte di credito e i tuoi biglietti all'interno del cellulare. Aggiungendo le tue carte di credito non dovrai portartele dietro, potrai pagare bene i servizi direttamente col tuo cellulare. Le carte di credito funzionano in modalità contactless, senza contatto. Non è più necessario strisciare la banda magnetica all'interno del post. I cellulari di nuova generazione consentono i pagamenti contactless perché sono dotati di un trasmettitore che invia al post i dati della carta di credito. Riguarda la conservazione dei biglietti, per salire su un aereo, su un treno o entrare ad un concerto ti basterà semplicemente aprire l'App Wallet e mostrare il biglietto all'addetto. Le App Wallet sono sicurissime purché tu usi una modalità di sblocco del cellulare che sia sicura. Il difetto oggettivo delle App Wallet è che non le puoi utilizzare se il tuo cellulare è scarico.